e bello a tutti voi ragazzi e ragazze io sono il vostro caro MastroKing e benvenuti in un nuovissimo video, questo oggi appunto è un video un po' particolare e parleremo appunto di alcuni giochi un po' a retro e infatti questo sarà una top 4 di giochi vecchi il primo a cui andremo a parlare è appunto Snake, questa è la versione che si trova tranquillamente su Google e quindi è storico questo gioco perché comunque è famosissimo anche per i vecchi telefoni come ad esempio Nokia 3310 o comunque quella serie lì che comunque ce l'avevano tutte e quindi il funzionamento sostanziale di questo gioco parla di questo serpentello che ogni volta che si recupera qualcosa da mangiare si allunga e quindi l'obiettivo è di resistere il più possibile all'interno diciamo senza mai morire quindi senza mai mordersi la coda e senza mai dare a sbattere contro i muri come secondo gioco andremo a parlare di Tetris e quindi come funzionamento di questo gioco vedremo tranquillamente semplicemente dei se vuol dire delle forme che dovranno andare ad incastrarsi tra di loro senza dover tranquillamente senza dover andare fino in cima l'unico modo per non arrivare fino in cima è quello di completare le righe e quindi un altro complicato di completare queste righe verrà scalata e verranno eliminate le righe completate e mano a mano scalate e quindi questo è sostanzialmente l'obiettivo di Tetris quindi ovviamente ci sono tutt'oggi ci sono varie tipologie di Tetris però infatti stesso questo io questo l'ho trovato online diciamo un Tetris normalissimo per PC poi abbiamo come terzo gioco Pac-Man ovviamente conoscete tutti Pac-Man come gioco l'obiettivo di questo gioco è quello di mangiarsi queste caramelle per così dire senza farsi uccidere le fantasmini una volta mangiate le caramelle più grandi i fantasmini cambieranno colore e quindi saremo noi che potremmo mangiare i fantasmini stessi e una piccola curiosità nel primo Tetris il primo Pac-Man creato c'è stato c'era un errore c'era un errore una mancanza di memoria al locale del gioco infatti non si poteva superare il livello 256 quindi chi riuscì ad arrivare al livello 256 un altro che ha completato questo livello non poteva proseguire perché il gioco si bloccava per mancanza di memoria poi andiamo finalmente con l'ultimo gioco che si chiama Ponga quindi si può dire che quasi è stato il primo videogioco creato almeno che io sappia se magari vuoi conoscere qualche altro video gioco creato prima però che io sappia questo effettivamente è stato il primo e si può dire che semplicemente il Tetris da tavolo schermo ovviamente nero e le due racchette bianche il gioco consiste di far andare, di non far colpire la palla all'avversario e il primo arriva a 10 punti almeno in questo caso io credo che sia sempre stato così massimo di 10 punti e vince la partita una volta finita la partita si può tranquillamente giocare sia almeno ora sia con un altro giocatore sia con il compiuto contro l'avversario automatico diciamo e allora questi erano i 4 di tanti videogiochi storici e comunque mettete spolliciate tanto se volete altri video del genere mi raccomando arrivate almeno 5 mi piace se è così porterò altri video di video giochi più o meno cioè più o meno vecchi comunque video giochi storici e mi raccomando lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale, seguite su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate ciao a tutti voi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti